Quarta giornata di campionato e fa ripuntati, in particolare sull'Avezzano, l'unica squadra abruzzese a punteggio pieno dopo tre giornate e con la difesa imbattuta. Per la squadra di Tortora è un test significativo quello di Albano Laziale contro una delle squadre più attrezzate del Gironi G, l'Alba Longa, che a due punti insegue il trio di Vetta. Giocatori come Delgado e Cruz testeranno il muro nero-verde, in attacco fuori Padovani per un risentimento muscolare pronto Bittaie. Sempre nel Gironi G cerca la prima vittoria nel nuovo impianto del Gran Sasso d'Italia Italo-Aconcia all'Aquila. Ancora una volta ci si aspetta una buona cornice di pubblico per spingere la squadra di Massimo Morgia alla vittoria contro l'Ostiamare, che è un'altra delle tre battistrada e può contare sui gol dell'ex Chieti e Canistro Michele Vano, sempre a segno nelle prime tre partite. Primo dello squalificato Pepe, Morgia punta in difesa su Gagliardini, Pupeschi e Sembroni, mentre in avanti conferma per un Massimo Ganci in gran forma, sostenuto da Minincleri e Russo. Nel girone F va a caccia di riscatto il San Nicolò, dopo il rovescio casalingo con la capolista matelica. Per la squadra di Epifani c'è il test sul neutro di Sant'Egidio contro il Monticelli, infarcito di ex. Terrenzio, Forgione e Donatangelo. Gara alla portata ma da non sottovalutare dopo il pareggio degli Ascolani a Vasto. Monticelli privo degli squalificati Pierantozzi e Canali. Nel San Nicolò ancora out De Giglio. Riscatto cerca anche il Pineto che deve dimenticare lo scivolone interno con l'Agnonese. Per l'undici di Aldo a Mazzalorso trasferta a Cesena sul campo di un Romagna centro ancora a secco di vittorie. Come peraltro il Chieti che è a secco anche di punti. Domani all'Angelini arriva la neopromossa Civitanovese. Se Chieti diventerà per tanti terra di conquista lo si comincerà a capire già da domani. La squadra teatina finora ha sempre pagato d'azio nei secondi tempi per via del ritardo di preparazione. Domani il tecnico Mariani potrà contare sui nuovi arrivati in settimana. Il portiere Ronchi e i centrocampisti Viscido e Ceccarelli. Ostica trasferta infine per la Vastese sul campo della munitissima fermana. I pareggi di San Marino e con il Monticelli senza sfruttare la superiorità numerica lasciano la mano in bocca nell'ambiente aragonese che quei punti persi vorrebbe recuperarli. La Vastese è sinonimo di gol in queste prime giornate. Ma al Recchioni contro il cecchino argentino Molinari servirà maggiore attenzione difensiva per portare via il risultato pieno.